Scattare buone fotografie in piena notte o comunque in ambienti dove la luminosità non è proprio ottimale è una delle sfide più complicate che ci troviamo ad affrontare, sia che siamo fotografi professionisti, sia che siamo puri amatori. Ma può darsi che tutto questo stia cambiando. Io vi consiglio di sedervi comodi e di seguire questo video fino alla fine perché andremo a vedere com'è possibile realizzare delle fotografie notturne in maniera incredibilmente facile e alla portata di tutti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Sono un fotografo professionista e quindi per me è difficile cercare lo stratagemma per fare meno fatica. Io di solito cerco lo stratagemma per realizzare le immagini della qualità migliore possibile. Nel video di oggi vi farò vedere due diverse vie. Una molto facile, l'altra un po' più complicata. Con entrambi i modi riusciamo a portarci a casa delle foto notturne di tutto rispetto. Uno è alla portata di tutti, l'altro è riservato solamente a chi si diverte a fare fotografia e vuole impegnarci un po' di tempo e un po' di risorse. Che voi facciate parte della prima o della seconda categoria io vi invito ugualmente a iscrivervi al mio canale cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella in modo da non perdervi gli aggiornamenti e lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che impareremo qualcosa di interessante. Ora io spero che vorrete essere indulgenti con me se continuo a raccontarvi le meraviglie e non che vengono fuori da iPhone 15 Pro. Però nel momento in cui vi faccio la domanda se vi interessa o meno questo argomento ricevo così tanti messaggi di assenso che non ho mai visto in vita mia e quindi sono portato a pensare che questo sia un argomento che interessa la maggior parte degli utenti. Anche se c'è qualcuno che vorrebbe che io parlassi di cose più pro rispetto all'iPhone abbiate pazienza perché nel corso di questo video utilizzeremo anche questa bellezza ovvero la Lumix S52X. Quindi non stiamo parlando solo di uno smartphone ma stiamo mettendo a confronto i due mondi. Cominceremo parlando di questa fotocamera, una fotocamera per la verità più una videocamera che mi è stata mandata in prova dal team di Panasonic di cui sono molto contento e purtroppo si avvicina il giorno in cui dovrò restituirla miseriaccia. Ho portato con me questa simpatica signora in nero per fare qualche foto notturna l'altra sera. Qualche informazione sullo shooting io ho scattato con questa bellissima fotocamera su tre piede con un bracketing a 7 stop per cui ho veramente tirato fuori il meglio che questa macchina è in grado di regalarci. Stiamo utilizzando un'ottica 16-35 mm certificata da Leica quindi abbiamo un bellissimo sensore full frame da 24 megapixel e un'ottica di tutto rispetto. Il risultato che siamo riusciti a portarci a casa è assolutamente soddisfacente nel senso che abbiamo dei bellissimi colori, una magnifica nitidezza su tutto il fotogramma anche negli angoli, quest'ottica performa veramente molto bene. Abbiamo ovviamente una precisione nei contorni, nella resa dei contrasti, nelle luci e nei colori quindi tutto quello che ci possiamo aspettare da una fotocamera professionale. Ora andiamo a vedere che cosa succede se facciamo esattamente la stessa foto esattamente nello stesso momento servendoci unicamente di iPhone 15 Pro. Come potete vedere le immagini non sono malvagie e badate bene, io vengo da un iPhone 11 Pro e vi posso dire che nonostante iPhone 11 Pro riuscisse a scattare delle fotografie in notturna quindi è vero, è già da un po' di anni che tutti quanti siamo in grado di scattare delle fotografie notturne però la resa è un po' cambiata nel senso che su iPhone 11 Pro sì, riuscivamo a scattare le foto però c'era un po' di rumore, i contorni se ne andavano un po' dove volevano loro diciamo che non erano proprio delle foto pulite io non le ho mai considerate pienamente pubblicabili soprattutto non se utilizzavamo il grandangolo che era una delle mie lenti preferite su quel telefono ma era assolutamente inutilizzabile con poca luce. Al contrario, devo dire che sul nuovo arrivato iPhone 15 Pro le fotografie notturne rendono abbastanza bene devo dire che sono addirittura infastidito da quanto rendono bene perché sono assolutamente presentabili soprattutto se viste piccole così sul suo monitor se andiamo a vederle a computer ovviamente vengono fuori le magagne ma noi sappiamo benissimo e soprattutto lo sa benissimo Apple che il 99% degli utenti ha come unica finestra sul mondo questo piccolo aggeggio e quindi vedranno le immagini solamente su uno schermo grande così in quel momento le fotografie sembrano buone ci sono un paio di cose che io ho riscontrato essere problematiche ovvero i punti luce non rendono particolarmente bene e i contorni nelle zone di passaggio tra chiaro e scuro quindi nelle zone di contrasto o nelle zone molto scure perdono molta definizione lì si vede che è uno smartphone però devo anche dire che queste sono cose che io da addetto ai lavori guardo perché a me piace vedere il dettaglio magari di un punto luce o di una zona di passaggio se ci sono dei bending nel cielo un amatore non se ne accorge neanche non ci dà nemmeno peso queste sono proprio cose che guardiamo noi addetti ai lavori o noi appassionati e quindi questo telefono tira fuori delle fotografie che sono pubblicabili su Instagram quantomeno sono meglio di quello che si riusciva a fare fino a prima di comprare questo telefono quindi di fatto l'effetto che fa è che fa credere a chiunque lo possega di essere diventato come per magia un fotografo bravissimo il che può essere molto bello per le masse può anche essere molto nocivo per il mercato fotografico non dico per il singolo professionista perché io non vengo pagato per fare foto di notte ai palazzi quindi non è un problema economico è un problema però culturale perché nel momento in cui io mi trovo ad avere a che fare con un mio cliente che crede di saper fare le foto benissimo con un telefono sarà molto meno propenso ad accettare le mie direzioni nel momento in cui gli dico che una fotografia fatta bene si fa in un altro modo perché crederà nella sua testa di saperla fare anche lui e quindi gli sembrerà strano che io non vada lì a fargliela semplicemente col telefono benissimo ma adesso venite con me perché andiamo all'interno del mio computer e andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio la differenza tra queste due tipologie di fotografia in maniera tale che cerchiamo di capire ognuno di noi cercherà di capire se si può accontentare di quello che viene fuori da uno smartphone oppure se vuole qualcosina di più e quindi vuole andare a fondo della vicenda e procurarsi un mezzo fotografico un po' più evoluto per catturare delle immagini che siano belle anche in stampa che siano belle anche in grandite allora una cosa che vi faccio vedere perché qualcuno me l'ha chiesto non c'è nulla di più fastidioso che scoprire che i file RAW di una videocamera o fotocamera che abbiamo appena comprato non vengono letti dal nostro sistema quindi siccome io non aggiorno tanto di frequente vi faccio vedere un piccolo workaround noi possiamo lanciare questo applicativo di cui vi lascio il link in descrizione possiamo andare a selezionare la cartella dove risiedono i nostri file RAW eccoli qui io vado a selezionare la cartella posso andare a impostare tutta una serie di opzioni per quanto riguarda la conversione gli posso dire dove si devono trovare i nuovi file la cosa più importante però al di là dell'estensione come vedete è DNG la cosa più importante è che gli andiamo a dire qual è la nostra versione compatibile quindi in questo caso io vado a selezionare questa che è la mia ultima versione compatibile e così posso convertire tutti i miei file e andare ad aprirli poi normalmente con i miei soliti software che uso sempre il pulsante converti è questo e siamo pronti a partire una volta convertiti ed ecco qui che abbiamo i nostri DNG li apriamo tutti quanti con camera RAW quindi ecco andiamo a lanciare i nostri file come potete vedere qui abbiamo una serie di fotografie notturne andiamo a giocare un pochettino con i profili perché io non sono tanto pratico con questa fotocamera che mi hanno mandato in prova come avete già visto nei video precedenti e quindi devo capire un attimino come si comporta il file ovviamente questi sono profili preimpostati quindi vanno bene tutti è una questione che è soggetta al nostro gusto di sicuro vado ad applicare il mio preset per la nitidezza non che queste lenti ne abbiano bisogno però io lo applico comunque diamo comunque una correzione anche dell'ottica vado a fare le solite cose che faccio normalmente in questi casi sono cose standard che faccio sempre ora qui come potete vedere abbiamo i nostri sette scatti perché io ho fatto un bracketing da sette foto sono veramente tante diciamo che volevo tirare un po' il collo alla macchina per vedere di che cosa era capace vedete che qui abbiamo una serie di foto di cui però nessuna è esattamente perfetta perché abbiamo delle foto che sono molto scure delle altre foto che sono troppo chiare per la scena che stavamo osservando adesso andiamo a lanciare il merge to hdr vedete che il computer ci metterà un pochino quindi adesso io salto direttamente alla fine di questo noiosissimo processo che non ho voglia di infliggervi arriviamo ad avere il nostro file finito che si presenta all'incirca così ovviamente questo è un file ancora estremamente lavorabile perché è la somma dei file precedenti quindi avremo un po' di informazioni da tutte quante le nostre pose che sono fatte su tre piede quindi la pose è esattamente la stessa vedete che qui noi potevamo andare a aumentare la luminosità di questo file così come uscivano dalla macchina ma non avremmo ottenuto lo stesso risultato vedete che qui abbiamo delle foto che sono molto sbilanciate perché era una scena difficile da fotografare e quindi l'unico modo per catturarla così è miscelare esposizioni diverse che infatti è quello che io vado a fare sempre quando faccio fotografie di questo tipo sette stop sono veramente tanti però poi mi danno anche la possibilità di intervenire sul file vedete quanta flessibilità abbiamo adesso io qui posso modificare i parametri e posso far fare alla mia immagine praticamente quello che voglio vedete qui abbiamo delle aree dove c'è ancora un po' di clipping anche se secondo me il software in questo è troppo delicato perché vedete è clipping dovuto al colore più che alla luminanza secondo me perché se guardo la foto non noto perdita di dettaglio il dettaglio anche nei bordi devo dire che è fantastico quindi questa macchina continua a sorprendermi nel senso che dovrebbe essere pensata per il videomaker ma fa delle foto spettacolari e questo è merito anche delle ottiche certificate da Leica che ho montato e come potete vedere fotogramma perfetto abbiamo una resa perfetta bending non ce n'è da nessuna parte andiamo a vedere un'altra immagine come potete vedere io ho cercato di mettere in difficoltà la mia macchina e ovviamente ho fatto le stesse foto anche con iPhone e quindi abbiamo fatto esattamente le stesse foto ho cercato di metterle entrambi in difficoltà ho spinto un pochino di più sulla macchina magari come potete vedere qui abbiamo tre piani abbiamo il cielo dietro abbiamo gli edifici e poi abbiamo queste spighe sul davanti e sono tre piani illuminati in maniera completamente diversa quindi la macchina fa fatica a catturare un'esposizione uniforme infatti come potete vedere ne abbiamo alcune troppo chiare qui brucia tutto è tutto troppo luminoso e ne abbiamo alcune che sembrano anche troppo scure nel momento in cui noi andiamo a unirle ovviamente otteniamo un qualcosa di meglio quindi questa è un'immagine dove noi possiamo andare anche a minimizzare il clipping possiamo andare a aprire un pochettino le ombre possiamo giocare sulla nitidezza fare tutto quello che vogliamo come potete vedere abbiamo una nitidezza fantastica su questo edificio abbiamo una nitidezza fantastica sulle spighe qui in basso riusciamo a fare veramente tutto quello che vogliamo devo dire che ho trovato quest'ottica molto versatile perché con un f9 sono riuscito a mettere a fuoco l'intera scena senza dover fare focus bracketing quindi l'ho trovata veramente molto performante qui abbiamo questa lucina posta dietro a queste foglioline vedete che c'è una bellissima stellina e anche questa sovrapposizione di luci non dà nessun problema le stelline dei punti luce sono molto molto belle questo è merito più dell'ottica che della macchina fotografica però abbiamo una resa che secondo me è chiaramente superiore a quella dello smartphone se la vediamo nel dettaglio ora andiamo a vedere le fotografie separate che avevamo fatto vedete che questa qui è la prima posa che era stata realizzata che chiaramente è troppo buia e comunque clippa lo stesso ne abbiamo una seconda che è troppo buia anche questa ma vedete che comunque clippa lo stesso poi ne abbiamo una questa qui cosa sarà questa qui è un'intermedia e comunque vedete che non è bilanciata insomma abbiamo delle foto troppo scure e qui vedete che non c'è clipping sui neri però devo tirarlo indietro per farla clippare se la apro completamente vedete io potrei non c'è perdita di dettaglio nei neri quindi io potrei andare ad aprire le ombre qui però vedete se lo faccio senza fare il bracketing che cosa succede questa zona che dovrebbe essere scura io la sto aprendo ma vedete quanto rumore mi tira fuori perché è una fotografia che è carente sulle ombre e così come anche questa io se andassi ad aprire anche questa io qui non riesco né a far smettere di clipare le luci né ad aprire le ombre qui abbiamo clipping su tutte e due addirittura sia sulle luci che sulle ombre insomma è un contesto difficile è difficile fare una fotografia come questa perché abbiamo il buio della notte più l'illuminazione ed ecco che arriviamo alla nostra fotografia finita che ho anche raddrizzato perché non ho resistito le fotografie storte non mi fanno impazzire vedete che qui io qui riesco a mitigare abbastanza il clipping sulle alte luci però ho tutti i dettagli nelle ombre e non ho rumore perché questa qui è la somma di sette foto vedete che se io vado a ingrandire nelle zone più buie non c'è assolutamente rumore non c'è rumore digitale né rumore introdotto in post produzione perché la fotografia è stata scattata con procedimento abbastanza lungo e dispendioso in termini di tempo che poi richiede anche un po' di post produzione perché bisogna sommare questi sette scatti però vedete la nitidezza di questi edifici e qui siamo anche sull'ingrandimento vedete com'è nitida e perfettamente pulita non c'è minimamente rumore questa è una macchina veramente fantastica quindi la sfida è davvero impari però siamo qui per testare la nostra strumentazione e portarla fino all'estremo e giusto che siamo in argomento adesso vi faccio vedere un simpatico giochino questa è una cosa che ovviamente non si vede tutti i giorni ed è una cosa abbastanza anche sciocchina volendo che però è possibile fare solamente con fotocamera perché con uno smartphone con l'app nativa della fotocamera non è possibile fare una cosa del genere questa è un'esposizione lunga fatta di proposito no ok voglio essere onesto con voi la prima mi è venuta per sbaglio però visto che mi era venuta fuori una cosa di questo tipo ho detto ma facciamone un paio giusto per far vedere quelle che sono le possibilità creative di una macchina fotografica vera la prima come vi dicevo mi è venuta per sbaglio la seconda però l'ho fatta apposta qui ho zoomato avanti mentre stavo facendo una posa di due secondi e mezzo questa è la mia correzione e vedete che l'effetto è molto particolare una cosa del genere con lo smartphone non si riesce a fare perché lo smartphone non ti dà la possibilità di gestire manualmente l'esposizione e lo zoom durante lo scatto qui ho fatto una cosa analoga ma ho tiltato la mia camera durante lo scatto quindi abbiamo le lucine che puntano verso l'alto dopo tre prove che erano venute lievemente mosse ho portato a casa questa immagine come potete vedere ho giocato con i tempi di scatto e con i tempi miei fisici per gestire la rotazione sul mio treppiede in maniera tale da avere gli edifici nitidi e a fuoco e quindi ho tiltato la camera solo all'ultimo secondo per avere le scie però lasciando tutto il resto abbastanza a fuoco quindi quello che è luminoso fa la scia quello che è scuro non la fa nonostante il movimento se il movimento è gestito bene e rimane fino alla fine e queste sono le meravigliose possibilità creative offerte da una fotocamera vera che con uno smartphone non riusciremo mai a tirare fuori molto bene ma abbiamo visto di che cos'è capace una macchina fotografica anche bellina adesso andiamo a vedere di che cos'è capace uno smartphone vi dico venendo da smartphone precedenti che personalmente sono contento dei risultati che sono riuscito a tirare fuori da questo telefono nel senso che adesso mi sembra veramente che sì, chiunque possa fare delle fotografie notturne non saranno perfette non saranno bellissime però sono più che sufficienti a ingannare il 99% degli utenti che non capiscono la differenza perché la differenza la capiamo solo noi che ci lavoriamo o noi che siamo amatori quindi il 99% delle persone non capisce la differenza per cui sì, questo telefono e non solo questo devo dire la verità perché anche altri competitor tra cui per esempio Samsung devo dire hanno delle fotocamere veramente eccezionali quindi non è certo l'unico però io ho per le mani questo per cui vi parlo di questo nello specifico restituisce all'utente medio la sensazione di essere in grado di fare delle fotografie perfette anche se in realtà non è così la macchina fotografica soprattutto se è bella e qui stavamo usando una macchina di fascia alta restituisce sicuramente una sensazione migliore una fotografia più bella una ricchezza maggiore una nitidezza maggiore anche una pulizia maggiore perché comunque nonostante questo telefono rimuove il rumore di fatto anche la texture levigando qualsiasi superficie devo dire che la macchina fotografica non è da meno perché se la sappiamo gestire ci restituisce un'immagine di una pulizia stellare con dei contorni fantastici e la grossa differenza grosse differenze sono due secondo me la prima grossa differenza è che con la macchina fotografica abbiamo un'esperienza d'uso diversa e ci divertiamo di più mentre la stiamo facendo e però dobbiamo anche svolgere tutta una serie di processi quindi dobbiamo mettere mano sul nostro file in maniera tale che venga fuori come noi lo vogliamo a differenza del telefono dove fa tutto da solo e viene fuori praticamente già pronta da subito usare il dng secondo me non rappresenta una grossa soluzione perché come ho già mostrato in video precedenti andateveli a recuperare se noi scattiamo in dng sì abbiamo un po' più di controllo ma il massimo che riusciremo a fare su questo dng sarà tornare al jpeg che avrebbe fatto al telefono da solo quindi l'effetto massimo che possiamo ottenere è già quello che ci dà il telefono di default con la modalità automatica quindi secondo me ha poco senso scattare in dng se non in rarissimi casi la seconda differenza ovviamente è la resa finale su certi tipi di supporti è evidente che se la nostra destinazione è instagram sono pressoché identiche non si vede la differenza su instagram è veramente difficile da vedere la differenza faccio fatica io stesso su foto notturne di questo tipo su ritratti si vede un pochino di più su altre tipologie di foto si vede un pochino di più e ci sono foto che il telefono non riuscirà mai a fare quindi esistono dei casi in cui la differenza è ancora abissale però nel caso specifico la differenza su instagram non si vede la differenza si vede su un monitor da 27 pollici come quello che utilizzo io si vede su un monitor da 55 pollici in 8k come quello che usiamo nella sala riunioni quindi dipende da dove lo stiamo guardando sicuramente se lo guardiamo su instagram la differenza non si percepisce per cui effettivamente il mio titolo non era clickbait perché questo telefono rende in grado quasi chiunque di fare delle foto notturne e di metterle laddove conta di più ovvero su instagram perché non diciamoci sciocchezze ormai stampare un libro fare una mostra sono cose che contano molto poco è molto più importante instagram se fai una mostra e non sei su instagram non ci viene nessuno quindi questo telefono secondo me raggiunge il suo obiettivo perché ci permette di fare la cosa veramente importante ed è molto triste che sia così però ci permette di mettere le foto su instagram la disperazione nel cuore nel dire questa cosa però effettivamente funziona per tutti quelli per tutti quelli che vogliono qualcosina di più invece ovviamente la macchina fotografica continua a darci quel qualcosina di più che secondo me non arriverà nemmeno mai sui telefoni perché il 99% del pubblico consumer è già contento così è felice quindi non sta cercando quella precisione di dettaglio che noi invece noi appassionati e professionisti vogliamo vedere nei nostri lavori nei nostri scatti anche obbistici quindi secondo me il 99% del mercato è più che contento con questo telefono e non ha bisogno di nient'altro vedremo cos'altro si inventeranno la prossima volta per continuare a venderci il nuovo modello ma per il momento il miglior consiglio che me la sento di darvi è di iscrivervi al mio canale perché così rimarrete aggiornati anche quando usciranno le prossime diavolerie a questo punto vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avete fatto esperimenti se avete provato qualcosa di diverso se avete provato qualche telefono che io non ho ancora avuto modo di utilizzare perché non conosco nessuno che possieda un pixel per esempio così come non sono riuscito a trovare il Samsung cos'è l'S23 mi sembra che mi avevate suggerito non conosco nessuno che ce l'abbia quindi faccio fatica a fare una comparativa vorrei tanto farla perché ho visto su un gruppo fotografico su Facebook ho visto qualcuno postare una foto della via Lattea fatta con il Samsung ed era una cosa pazzesca poteva tranquillamente dare le piste all'iPhone da quel punto di vista quindi sarei curioso di provarlo fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato vi ricordo che spesso e volentieri io vi risponderò con degli short verticali quindi se vi iscrivete non rischiate di perderveli e che dire amici è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video e io vi do appuntamento